Chissà che non sia la vittoria più bella della sua carriera, questo nessuno ha avuto il pudore di chiederglielo perché certo passi un mondiale, un fiandre, un europeo, giusto per non dilungarsi, ma la gioia di un campionato italiano in casa per giunta all'unico titolo mancante in carriera è probabilmente indescrivibile. E' questa la favola di Marta Bastianelli andata in scena sul traguardo di Castellalto al termine di un campionato italiano incertissimo dedicato alla categoria donna elite. L'organizzazione della SD Vomano Bike e Parmigiani Management sotto legida della Federazione Ciclistica Italiana aveva pensato davvero a tutto, ma due cose non poteva prevedere. La vittoria della beniamina di casa è un pubblico degno di una classica del nord. E così Marta Bastianelli ci ha messo del suo, tirando dal cilindro una magia degna del miglior prestigiatore. La vittoria in casa sotto gli occhi della figlia Clarissa Vittoria, del marito Roberto De Patre e di tutti i suoi supporter, alcuni giunti dalla città laziale Lariano, sua città natale. Arrivata al termine di una volata magistrale al fotofinish vinta per 30 centimetri, tutti di grinta ed esperienza, su nell'ordine Elisa Balsamo, Ilaria Sanguinetti, Marta Cavalli, Arianna Fidanza, Soraya Paladin, Michela Balducci ed Erika Magnaldi. Tutti pezzi da 90 delle volate. Tutta la differenza poi l'ha fatta il pubblico locale che, magistralmente guidato dallo speaker Ivan Cecchini, ha letteralmente sospinto ad ogni giro il treno delle Fiamme Azzurre, vero cuore e fucina del successo della Bastianelli. Un fuoco inestinguibile di potenza, tattica e abnegazione trasmessa sui pedali. Sono stati sostanzialmente quattro i momenti che hanno caratterizzato la corsa riservata alle donne d'élite. La prima ora è volata via con un'andatura blanda a 36,5 chilometri orari e un gruppo compatto. Subito dopo, al chilometro 53, è partita in fuga Francesca Pattaro, che ha raggiunto il vantaggio massimo di due minuti al termine della discesa di San Clemente. Il gruppo, però, non è stato ai giochi e ha subito ricucito, salvo poi lasciare vadere un importante gruppetto con Alessia Vigiglia e Daglia Muccioli, Alice Gasbarini, Letizia Borghesi, Silvia Valsecchi, Rachele Barbieri e Arianna Sessi, esattamente al chilometro 79 durante il quinto passaggio. Una sortita importante, con quasi tutte le migliori squadre rappresentate. Mancava infatti solo la formazione delle Fiamme Azzurre, la squadra di Marta Bastianelli, ma senza nessun accordo il distacco è in breve tempo lievitato sino a 4 minuti e 30 secondi. E' in quel momento che la corsa è giunta al punto decisivo, proprio quando sembrava evidente che la fuga sarebbe andata in porto e è entrato in azione il treno delle Fiamme Azzurre, che ha letteralmente divorato lo svantaggio con un'opera di ricuscitura lunga oltre 50 chilometri. Così, al primo passaggio sul muro della Cappelletta è transitata per prima la Muccioli, che ha vinto il Gran Premio della Montagna, ma le sorti erano segnate. In contrattacco ha provato Alessia Vigilia, che ha retto in testa per tutta la metà dell'ultimo giro, ma la locomotiva Fiamme Azzurre ha aumentato il passo e non solo all'imbocco del muro. Il gruppo era compatto, ma già 100 metri dopo si sfilacciava in più tronconi, nell'attraversare una vera e propria parete di pubblico. In cima al muro scollinano in tre, Longoborghini, Magnaldi, Paladin, ma presto rientra un'altra decina di atlete. Un plotone, pressoché compatto, si insuli traguardo. Il resto è storia. Grazie.